buongiorno a tutti benvenuti al quarantesimo episodio del robot to commander se questa partita andrà bene faremo un botto dei punti devo fare tipo 9 decisioni con la cappa i 6 o 7 col ball cosa che non faremo mai perché becchera beccheremo il cazzo di canguri con l'exo che saltano e stanga piove su ste gazzote allora prima facciamole col ball minchia ma c'hanno il pepe al culo bene ok cominciamo figa della madonna oi là però c'era uno va bene avanti c'è ah morì ammazzato te tu nonna in cariola roba giacca di tua sorella minchia ma abbiamo perso alfa cosa sono queste scempiaggini aia cazzo c'ha col tac e mazenas qua se siamo su a come cazzo si fa andare su a ok di qua dove a parte che mi sei spostato il controller in una maniera abinorme e a parte che io tiro la bomba e faccio un uccisione megatomica sto cazzo conquistiamo api oppa lo sono va bene a parte che ci sono svariche ah ma perché stanno con me che sono tipo a livello 1 livello 4 io devo star zitto che sono a livello 29 però mi devo proprio che sta zitto quando va via l'exo va via l'exo mi viene a prendere quello la di te madonna i canguri di merda ah però uno l'ho ucciso ma andava a prenderci no ve fa schifo ve fa orore però quando cazzo va via sto exo eh scusate eh e son tutti su a abbiamo c e mo andiamo a p a b eh scusate eh via via fuga ecchele via via su b via su b via su b non faremo un'uccisione ma almeno voglio iniziare la partita cazzo ma mia schifezza di certe persone grande buona che una abbiamo fatta venite approcci oh eh buongiorno e che cazzo che se voleva tanto vieni fratello oh ah ma son caduto avvassiamo under the bridge mamma mia che schifezza di uomini che svilano il mondo non si possono rebuttare giocatori figa va la va la via beccare via a chi sto e donna se mi ammazzavi te te mo venide perdiamo la battaglia vieni su bello to giù di qua eh no c'era qua attention perchè non ci sono le granate stordenti vai avanti è sotto è sotto venga 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 corretta è stata distrutta non c'è sta nessuno aio bastardo da dove madonna dove sono quelli lì ma sbaglio camberano come il cazzo di di caimani guatemaltechi porco giuda grande mega recuperone eh di un punto ma mega recuperone eh quanto fatto 6-6 qua il distruttore distruttore di vagine e vabbè contento te cioè cioè le vagine non si distruggono si con con cautela con calma e con serenità e rispetto per la duonna però si fuottono le vagine mio ecca oh loro hanno chiamato gli mp è perchè io non posso chiamare il cazzo di predator di merda del cazzo del fiscio della merdaccia non so se ho bestemmiato in questa partita mi 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 risentirò dopo va bene e mo te sfondo basta ah perchè c'è l'exo ha già capito ha già capito fratello vaffanculo b in mano nemica e mo posso lanciarlo figa arriva un approvvigionamento nemico no che loro non mi avessero visto c'era un po' difficile però ma io dico se siamo su a perdiamoci piamola no no eh se siamo su b piamola o no e che cazzo te dove sono boom tripla ha ha suga pezzi di merda suga madonna la tripla della vita della morte dell'infamia di du sorella andava a prendere qualcosa o no eh chi può andarlo a prendere in culo come prende bravo eh amico cioè hai rotto il pazzo uccidiamoci con le bombe vai 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 ma che cos'è quel cosa lì perchè? ma è l'UAV? non lo so venga venga perchè da dietro? ma vabbè vabbè dai a prendere A fa schifo al cazzo eh via non muore nessuno bene dove sono? sono sotto A non è che non ti ho visto eh ti ho anche visto mi fai anche schifo e sei scarso se io faccio più schifo del Tian eh però questo qua questo qua fa più schifo dei tutti messi insieme però come avete capito la situazione comunque su dominio si giocava di merdissima aspetta che prendo un attimo la capa o almeno faccio un paio di uccisioni e l'episodio dopo ehm faremo i puntoni ma perchè si accasciano figa aspettate che lo ammazzo bessi di merda sto cazzo vuoi controlla A e B vai a fanguloto ho fatto il tiro del pissione aia ma va non l'avrei minga mai detto o mai una volta che finisce la partita per per puntezzo e mai mai mamma mia oh non mi ricordo se era una quella lì anti uomo è una come si dice una non mi viene il termine ma si può distruggere fuga conquistiamo alfa sono circondato e l'ho presa pezzi de merda lecca de mercazuuu vaffanculo figa ma è una volta che finisce la partita dicevo per i punteggi c'è questo va anche a far capire e deve capire quello che ha fatto sto gioco che le mappe fanno schifo perché c'è boh non lo so una volta domini finiva perché si arrivava a 200 37 poi abbiamo fatto uno sfracasso di punti e ci vediamo alla prossima e ciao ciao